Alle fibrillazioni ci pensa al cardiologo, la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, la lista del Presidente e noi moderati, sono cinque formazioni che fanno parte della maggioranza, hanno tutti trovato nei ruoli apicali legittima soddisfazione e rappresentanza adeguata, proporzionata non soltanto al peso elettorale e numerico, ma anche al ruolo politico che svolgono. A fine giornata Marsilio stempera con una battuta le tensioni che hanno accompagnato in maggioranza la fase di confronto su Giunta e Consiglio e sia pure con qualche marli di pancia, esplicitato in due franchi tiratori alla prima e uno alla seconda votazione per il Presidente del Consiglio, l'accordo raggiunto in extremis tiene e si avviano senza sorprese i lavori della dodicesima legislatura. La seduta di insediamento di questa mattina, durata circa tre ore, ha portato all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, Presidente dell'Assemblea, resta Lorenzo Sospiri di Forza Italia, eletto alla quarta votazione con 17 voti delle forze di maggioranza, mentre le opposizioni hanno votato scheda bianca, non accogliendo l'indicazione di unità arrivata da Marsilio. Sospiri, per la seconda volta c'è in una nuova legislatura lo stesso Presidente anche nel Consiglio? Era il segno di questa continuità, devo dire che avrei potuto ricoprire anche un altro incarico, chiaramente quello del Presidente del Consiglio regionale mi riempie di orgoglio, cercheremo di fare meglio di quello che abbiamo fatto nei cinque anni precedenti e di allargare la partecipazione a tutti i componenti dell'Aula, anche a quelli che sono di opposizione. Eletti con il meccanismo del voto limitato gli altri membri, i Vice Presidenti sono Antonio Blasioli del Partito Democratico e Marianna Scoccia di Noi Moderati, i consiglieri segretari Luca De Renzis di Fratelli d'Italia ed Erika Alessandrini del Movimento 5 Stelle. Luciano D'Amico prende il via la dodicesima legislatura, avete appena concluso una riunione con tutti i componenti della sua coalizione, questo significa che c'è una precisa comunione di intenti nell'articolare l'opposizione a Marsilio in questi cinque anni? Decisamente sì, c'è una compattezza del patto per l'Abruzzo, una compattezza che ci porterà a fare un'opposizione sicuramente costruttiva ma anche severamente vigilante su tutte le proposte che verranno dai banchi del governo per fare in modo che il mandato ricevuto dagli abruzzesi possa essere da noi eseguito nel migliore dei modi possibili e cioè nell'interesse esclusivo della Regione Abruzzo proporre e ricercare delle soluzioni che possano garantire agli abruzzesi le migliori condizioni possibili. La seconda parte del Consiglio è stata dedicata alle comunicazioni del Presidente della Regione che ha svelato nomi e deleghe dei nuovi assessori. La giunta risulta quindi composta da Marco Marsilio, Presidente, Emanuele Imprudente, Vicepresidente con deleghe ad Agricoltura, Caccia e Pesca, Parchi e Riserve Naturali, Sistema Idrico e Ambiente, Nicoletta Verì con deleghe in materie di salute, famiglie e pari opportunità, Umberto D'Annuntis, trasporti pubblici locali, mobilità, lavori pubblici, difesa del suolo e infrastrutture, Mario Quaglieri alla strategia nazionale delle aree interne, sport, impiattistica sportiva, ragioneria, patrimonio, erpi, informatica, sistemi territoriali della conoscenza, personale, oltre naturalmente al bilancio. Roberto Sant'Angelo sarà assessore alla formazione professionale, istruzione, ricerche e università, politiche sociali, enti locali e polizia locale, edilizia scolastica, beni e attività culturali e di spettacolo. Tiziana Magnacca alle attività produttive, industria, commercio, artigianato, ricerca industriale e lavoro. Resta il turismo che sarà la delega assegnata al sottosegretario alla Presidenza, Daniele Damario di Forza Italia. Naturalmente io ho voluto premiare la continuità perché era un valore sul quale avevamo chiesto l'apprezzamento dei cittadini abruzzesi che è arrivato e non potevamo evidentemente tradirlo nelle scelte conseguenti, quindi dove possibile, dove gli equilibri, il risultato elettorale, le condizioni statutarie lo hanno consentito. Ho cercato in qualche maniera di fare in modo che chi aveva fatto molte cose e ne ha dossier già caldi e pronti potesse sin da ieri cominciare a lavorarci e questo garantirà un inizio veloce di questo mandato e di questa legislatura. Molti dei colleghi che mi conoscono credo che non abbiano non votato per sospiri, ma quanto per cercare di creare fibrillazione all'interno di una maggioranza che è il primo giorno. Ci sono queste fibrillazioni? A vedere i risultati direi di no. Alla fine il Presidente Marsiglia ha comunicato un'aggiunta completa ed è stato eletto un Presidente del Consiglio regionale con i suoi voti di maggioranza, quindi mi pare di no. È anche normale che all'inizio di un governo regionale ci possa essere qualche sottolineatura, qualche limatura e certamente la faremo per cercare di far sentire tutti i territori rappresentati e tutte le competenze specifiche esaltate.